Vivere in un ambiente più confortevole, più sano e di qualità impeccabile è una necessità comune a miliardi di persone, di tutte le culture e di tutti i paesi. Quindi, trovare soluzioni permanenti a questa necessità comune e migliorare la qualità della vita è possibile esclusivamente grazie a quei marchi che comprendono i bisogni di questa epoca e utilizzano le tecnologie in modo consola. È a questo che punta Acfix, rendere l'ambiente più sano, più confortevole, più prezioso. Attiva dal 2001 nel settore della chimica applicata ai materiali da costruzione, Acfix si è specializzata nella messa a punto di prodotti e tecnologie chimiche ecosostenibili, rispettose della vita, per creare soluzioni permanenti per i bisogni della clientela. Con la messa a punto di prodotti diversi per le varie necessità della clientela, Acfix è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti. Areosol di schiuma di poliuretano, sigillanti siliconici per l'isolamento, sigillanti poliuretanici e acrilici, adesivi per carta, adesivi tecnici e industriali, prodotti tecnici a base di areosol. Dotata di sempre più ampie competenze e know-how, Acfix si presenta come un ideale maestro delle soluzioni, un vero e proprio player professionale e internazionale nella vendita, lo sviluppo e la fornitura di schiume poliuretaniche e sigillanti. Crea soluzioni permanenti, a supporto e completamento delle aziende di costruzione professionali in tutte le loro operazioni. Tutti i prodotti Acfix sono messi a punto a Hadimköi, una struttura di 25.000 m2 nei pressi di Istanbul, altamente tecnologica e ad alta capacità produttiva, che opera in conformità al sistema di qualità ISO 9001. Tutto il processo produttivo, compresa la fornitura delle materie prime e del prodotto finale, si svolge sotto l'attenta sorveglianza dello staff tecnico professionale aziendale. Quindi, dalla linea di produzione, non esce neppure un prodotto che non soddisfi gli standard qualitativi previsti. Per Acfix la qualità non sta soltanto nel prodotto, ma in tutte le fasi di lavorazione, dall'imballaggio del prodotto fino all'utente finale. Attenta alla messa a punto di prodotti che supportino il cambiamento e lo sviluppo delle tecniche costruttive, Acfix investe continuamente in attività di progettazione tecnica e di ricerca e sviluppo. Acfix ha stabilito stretti rapporti con i suoi clienti, distribuendo i prodotti in oltre 85 paesi in tutto il mondo, in grado di soddisfare le loro richieste in tempi rapidi. Acfix presenta inoltre notevoli vantaggi e benefici per i propri partner commerciali. Acfix offre un efficiente supporto commerciale e marketing ai propri partner, aiutandoli ad affermarsi sui mercati competitivi di oggi. Con la sua esperienza di intenso lavoro e la sua storia di successo, oggi Acfix è un marchio forte e conosciuto in tutto il mondo. Acfix crea soluzioni permanenti. Acfix è un marchio registrato di Akim Yapik Inmiasallari AS, il più grande produttore turco di aerosol di schiuma di poliuretano e sigillanti siliconici.